Sostanzialmente oggi stiamo determinando praticamente dal mio punto di vista la totale deflagazione dell'Unione Europea con una situazione dal punto di vista dell'emergenza migranti che ha due condizioni principali. La prima è che l'Unione Europea evidentemente non ha un accordo e questo è evidente dal blocco dell'est dell'Unione Europea ma anche da presa di posizione di altri paesi. Seconda questione c'è una situazione di scarsa identificazione da parte delle persone che arrivano e per cui anche di conseguenze abbastanza drastiche sul territorio ma ne abbiamo già parlato parecchie volte. Se oggi aggiungiamo il rischio che la Turchia diventi un paese dell'Unione Europea mi sembra questa sia la ciliegina sulla torta al suicidio totale dal punto di vista culturale ed identitario dell'Unione Europea. Due sono le questioni principali. La prima è che noi apriamo una porta al fondamentalismo islamico aprendo sostanzialmente all'ingresso della Turchia in Europa non solo ad una trattativa come quella che si sta consumando Bruxelles ma anche al finanziamento di 3 miliardi dati alla Turchia in questi giorni. Paese che non solo gravita su una quasi totalità islamica ma che soprattutto anche negli ultimi giorni ha evidenziato quale sia il concetto di democrazia da parte del proprio Presidente e del proprio governo.